Ci troviamo in una struttura polivalente dell'impianto sportivo di Tassè Frentano di Via Olimpia, comunemente detto il pallone, si stanno allenando e divertendoci i nostri baby atleti della categoria piccoli amici, qua c'è Mr. Billi, con il suo gruppetto di ragazzi e c'è anche Mr. Gabriele, coordinatore tecnico della scuola calcio settore giovanile di questa società. I ragazzini, non fateci caso che stanno ancora con le divise personalizzate la Juventus, in quanto sono arrivati i kit, già sono stati distribuiti alcuni borsoni, si è cominciato proprio con i ragazzini di questo gruppo, domani proseguirà la consegna dei kit ai ragazzi più grandicelli del settore giovanile e precisamente agli allievi, sempre di Mr. Gabriele e ai giovanissimi di Mr. Giovanni, mentre venerdì saranno consegnate alle categorie rimanenti, pulcini, esordienti e primi calci. si divertono i ragazzini in questa struttura coperta, riparata dalle intemperie, così i piccolini non mischiano di ammalarsi e non so come il freddo, comunque Mr. Gabriele ci tiene che quanto il tempo lo permette, anche se la temperatura è fredda, preferisce allenare i suoi ragazzi fuori, all'aperto, in quanto così si temprano i ragazzini, si fortificano a giocare fuori con tutte le temperature, così acquisiscono maggiori anticorpi e non si ammalano. c'è quel detto che dice i ragazzini più si copre più si ammalano, è la verità. A questo altro lato vediamo l'altro gruppo di ragazzini di Mr. Antonello Ucci comunemente conosciuto come Billy. abbiamo un ragazzino con la maglia di Marorona, abbiamo un giuventino, eccoci diverso i ragazzini in questa bella struttura. Questi sono i fitte della scuola calcio, ogni borsa è personalizzata, prendiamo a casa una borsa, è personalizzata, vedete che c'ha il numero identificativo, qua abbiamo il 26, qua abbiamo il 21, dove c'è tutto il corredo sportivo del ragazzino, dai calzettoni al giubbotto, c'è la tuta d'allenamento, tuta di rappresentanza, tutto il sportivo che sarebbe tanto nonchini e una maglietta, tanto nonchini conti, c'è anche lo sponsor, qua c'è lo sponsor di Biase Consiglio in queste borsche, adesso ne sono rimaste sei borsone da consegnare e così abbiamo terminato la prima consegna al gruppo dei piccoli amici e domani si proseguirà per le altre categorie, come anzi detto per gli allievi giovanissimi che c'ha un'altra colorazione sul giallo-blu, così come per gli allievi e la prima squadra, ovvero la scuola calcio che parte dai piccoli amici primi calci pulcini e sordienti hanno la classica la classica divisa nero-azzurra mentre il settore giovanile che sarebbero giovanissimi ed allievi avranno la giallo-blu anche per i mister c'è un nuovo look nuovo correddo per i mister è arrivato anche la seconda divisa ufficiale per gli allievi e i giovanissimi e la classica divisa color bianco con dei risvolti giallorossi a noi i pantologini bianchi e calzettoni per variare dalla prima squadra che c'erano bianchi e calzettoni invece per gli allievi giovanissimi questa divisa c'è i calzettoni gialli gialli ecco qua si divertono i ragazzini c'è il mister Gabriele ecco lo Juventino bravo 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 Gianluigi bravo